Stava bene, tutto è iniziato a marzo del 2020, l'anno scorso, che cosa era successo? Ma allora in realtà aveva avuto dei dolori alla schiena, ma sai essendo stato comunque un calciatore professionista noi tributavamo questi dolori a tutta una serie di usure dovute appunto all'attività e abbiamo fatto diversi accertamenti, sembrava stessa andando tutto bene, per cui siamo partiti per le Maldive dove io avevo organizzato a sorpresa questo rinnovo delle promesse nuziali e è stato un momento molto bello, veramente una vacanza serena, una vacanza che ovviamente è diventato il simbolo del nostro amore e poi subito dopo siamo invece tornati, ho notato questo forte dimagrimento e quindi questa cosa insomma mi ha insospettito un po', siamo andati a fare nuovi accertamenti e lì purtroppo il verdetto, quello che non avrei mai e non avremmo mai voluto sentire Che era un tumore ai polmoni? Sì E lì sono iniziate le cure, quindi comunque un po' di speranza tu ce l'avevi Assolutamente ce l'avevo e ce l'avevamo nel senso che sicuramente sapevamo di dover convivere con questa malattia anche a lungo e forse per sempre però con prospettive positive anche di, non dico guarigione ma insomma di, cioè ci avevano detto che poteva tornare a stare bene a condurre una vita normale, a rifare le sue cose per cui noi fino veramente a un mese dalla morte è stato questo insomma quello che noi pensavamo, quello che noi ci aspettavamo e quindi abbiamo combattuto nove mesi sperando di poter vincere questo mondiale noi lo definivamo il nostro mondiale Siete stati anche tanto tanto insieme perché poi c'era anche il lockdown era una situazione molto particolare come sono, vi siete un po' come dire rivissuti in quei mesi? Guarda abbiamo scoperto un'intimità che andava oltre all'intimità che avevamo sempre avuto negli anni insieme perché veramente in quei momenti ci si affida molto quindi Paolo si era affidato completamente a me è stato faticoso ma è stato veramente bello poter vivere Paolo e il nostro amore anche in questi nove mesi Lui aveva capito, so che ti faceva delle domande e tu ovviamente mentivi Sì, sì Allora Paolo essendo un uomo molto intelligente ha capito subito tutto però io a un certo punto ho iniziato a raccontare delle mezze verità nel senso perché volevo vederlo sereno sempre volevo tenerlo sereno fino alla fine volevo che lui combattesse per cui avevo bisogno di vederlo comunque positivo lui ogni tanto senza dire niente perché poi non era una persona che cioè non parlava più di tanto soprattutto quando aveva problemi ma io lo conoscevo bene quindi sapevo e quindi magari mi abbracciava e piangeva io lì ovviamente raccoglievo questo suo grande dolore però dicevo dai forza dobbiamo continuare ce la possiamo fare quindi così è stato fino alla fine Grazie a tutti